Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, ho voluto fare una lettura più specifica per quello che riguarda l'andamento finanziario e economico del mese di marzo. Per andamento finanziario ed economico intendo parlare anche di quelli che sono gli investimenti già in essere, i possibili investimenti futuri, le quotazioni in borsa, quindi andiamo a vedere un pochettino più nello specifico quello che sarà il movimento soldifero, il movimento dell'economia. ho comunque qui sempre i segni zodiacali, abbiamo pesci per la prima scelta, toro sempre per la prima scelta, leone e ariete per il sole, la carta azzurra. La seconda scelta è la mano di fatima dovrebbe essere. Allora abbiamo la vergine, lo scorpione, bilancia e gemelli. Mentre per la luna, carta fucsia, scelta numero 3, abbiamo l'acquario, il sagittario, il cancro e il capricorno. Allora vi dico subito che personalmente a me risuona sempre di più l'ascendente rispetto al segno zodiacale, però vedete voi, se non risuona uno potete ascoltare l'altro. E comunque questa lettura le potete integrare con le letture del lavoro che andrò a fare e con le letture generali in uscita ogni settimana. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Bene, amici della prima scelta, andiamo a vedere che aria tira a livello economico nel prossimo mese. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona, perché è la prima volta che faccio una lettura così specifica, e per me è utile capire, insomma. Bene. Mostrami l'andamento economico-finanziario degli amici della prima scelta. Fante di pentacoli Cavaliere di bastoni Cinque di bastoni Imperatore Cinque di spade Scusate, sei di spade Torre Oh là là E sette di coppe Allora ragazzi Devo dire che tutto sommato la posizione economico-finanziaria è abbastanza stabile Per quello che riguarda, diciamo, il flusso di denaro Diciamo che per quello che riguarda gli investimenti, lo sento un buon mese per gli investimenti immobiliari Quindi per investire denaro Tipo se avete una ditta di trasporti in mezzi di trasporto, piuttosto che appunto in struttura per la vostra azienda Quindi in immobili per la vostra azienda, piuttosto che non so se dovete comprare casa O proprio se siete magari imprenditori edili Devo dire che il mese di marzo è un buon periodo in questo senso Per quello che riguarda Ecco, diciamo che se invece avete un'attività di scambi commerciali Di magari fornite servizi Magari avete contratti in essere appalti Qui sento appalti Ecco, lì potrebbe esserci qualche difficoltà in più Devo dire che Sento molto forte questa cosa degli appalti O qualche, diciamo, risultato da conquistare Sento, è come se ci fosse tanta Come si dice in italiano? Tanta concorrenza Nel settore in cui voi state operando E che quindi sia un po' più difficile Scalare la vetta Ma non lo vedo impossibile Anzi, avete un bell'imperatore qui Devo dire che Le cose sono piuttosto stabili Magari non semplici, però Ci sono, sono stabili, sono concrete Per chi invece investe in borsa O in bitcoin O in quello che è Devo dire che le cose andranno Abbastanza tranquille Abbastanza Non c'è molto movimento Ecco A livello Né a livello di crescita Né a livello di decrescita Devo dire che Sento che il mese è piuttosto stabile In questo senso Per chi avesse magari Già fatto un investimento Ragazzi Le cose iniziano a partire Ok? Per chi avesse già magari Iniziato un progetto O appunto Fatto un investimento Devo dire che le cose Inizieranno a partire Allora In ogni caso Sento che qui Per smuovere le cose In questa direzione Se per caso Sentite Magari non è così In tutti i settori Come vi ho appena detto Però Se sentite che le cose Sono un po' statiche O sono complicato O fanno fatica O i risultati che voi vi aspettate Non stanno arrivando Quello che vi consigliano le carte Di valutare altre alternative Di Smontare un pochettino Quello che avete fatto Di allontanarvi Dalle credenze limitanti Che avete avuto fino ad adesso Rompere letteralmente Le certezze Le sicurezze E riaprirvi Una serie di strade Una serie di possibilità In più Perché qui Con questo 6 di spade Ci potrebbe essere O una questione Di distanza Quindi probabilmente Può essere Una distanza fisica Una distanza Una distanza Di mentalità Tra Non lo so Ipotesi Come la vedete voi E come la vedono I vostri collaboratori Può essere Ecco Per chi Magari Come investimenti Investi In Fondi pensioni O cose di questo genere Ho come la sensazione Che anche lì Ci sia qualche cosa Che riguardi La distanza Nel tempo Però Come se dovesse Rivalutare Certe cose Andiamo a vedere Una carta Per ognuno Solo una Perché mi sembra Di aver già detto Tanto Allora Per il fante Di pentacoli Per piacere Una carta Stella Per il Grazie Cavaliere Di bastoni Wow Imperatore Per il 5 di bastoni Per l'imperatore Fante di pentacoli Ce l'avete qui Per il 6 di spade Regina di bastoni Per la torre 9 di pentacoli Per il 7 di coppe 8 di coppe Sì Allora Devo dire Che Si tratta Di puntare Ad obiettivi Nel lungo periodo Qui Per quello Che riguarda I vostri Investimenti Immobiliari Per quello Che riguarda Gli investimenti Che avete Già fatto Cioè E' come se Ci fosse Una sorta Di inizio Da parte vostra Nel maneggiare Un certo tipo Di concretezza E quindi Ho come la sensazione Che appunto Dobbiate Star calmi Fondamentalmente E vedere Perché l'umano Tende a voler Tutto e subito Per questione di ego Però Quando i risultati Non arrivano O si disfa Il modo in cui Si lavora Per avere altri risultati Oppure Si diventa più pazienti Osservatori Per capire Effettivamente Che azione Mirata Fare Vi dico Tutto sommato Le cose sono Piuttosto in equilibrio Sono piuttosto Stabili Solide Però Se voi Avete l'impressione Di non andare avanti Che non sento Che sia così Ma E che Come se Queste due carte Mi dicessero Che volete più Indipendenza O volete più Raggio d'azione E quindi Allora Capisco Perché Il fante di Due volte Il fante di pentacoli È come se Avessi bisogno Di qualche titolo In più Sia che sia Un titolo di borsa Sia che sia Un titolo di studi È come se Avessi bisogno Di più O meglio È come se Pensasse Che comprando Di più Le cose Vi rendano Di più In realtà Qui Vi dicono Di valutare Anche Altre alternative Perché Non è detto Che quella credenza Sia reale Magari Ci sono fonti Di investimento Che non avete Valutato E che invece Vi potrebbero dare Più beneficio Con meno sforzo O con meno Impegno economico Insomma Va bene ragazzi Mi sembra Comunque un buon periodo Fatemi sapere Se vi è aiutato Questa lettura Mi raccomando Ricordatevi Di mettere like Ricordatevi Di commentare Che quello A me serve tanto Allora andiamo Oh grazie Energia Le fatine Dicono Energia Qui avete la carta Del sole Che è l'archetipo Dell'energia Yang Del maschile E qui avete anche Per ben due volte L'imperatore E' un po' come se Fosse un Diciamo Un suggerimento Di metterci più Energia Di metterci più Entusiasmo Nonostante Non arrivino Magari I risultati Che voi volete Perché qui si tratta Appunto di Fare una sorta Di restyling Di togliere Abbattere Qualche muro Abbattere Qualche confine Qualche divieto Per aprirsi Una serie Direi Di strade nuove Ok Bene Amici Della prima scelta Spero che la lettura Vi sia stata utile Se avete piacere Potete mettere like Condividere Commentare O iscrivervi Me ne mancava uno Io vi ringrazio Di essere stati qui con me Vi mando un abbraccio E ci vediamo Nei prossimi video Ciao ciao Benvenuti Agli amici Della seconda scelta Andiamo a vedere Anche per voi Le energie In movimento Sul piano economico Finanziario Per il mese di marzo Mostrami I movimenti Economico Finanziari Degli amici Della seconda scelta Che interessante Quando escono così Ragazzi Sono sempre Allora Matto Vi ricordo Che comunque Queste letture Possono risuonare Oppure no Prendete quello Che vi serve Ok Se poi volete Contattarmi Trovate la mia mail Qui Oppure Sotto Nella descrizione Del video E sempre In descrizione Poi ci sono Anche altri link Utili Che vi spiegano Come integrare Diverse letture Tra di loro E' una guida Proprio Allora Abbiamo un 2 di coppe Un 8 di bastoni Fante di bastoni Regina di pentacoli La luna E il 4 di pentacoli Ok Scusate Scusate se sorrido Ma qua Mi è proprio Arrivato un messaggio Che mi ha fatto Sorridere Sapete che Gli spiriti guida Ogni tanto Sono Burloni No Loro piace Scherzare E Qua Ho proprio Mi è arrivato Un compulsione Da shopping Però vabbè Ci arriviamo Allora Partiamo da Diciamo Gli investimenti Quindi Quelli che potrebbero essere Investimenti Che volete fare Potrebbero essere Investimenti Assicurativi Gli investimenti Non lo so Un fondo pensione Un fondo assicurazione Un investimento Magari immobiliario Diciamo Partiamo da quelli Che sono gli investimenti Devo dire Che Potrebbero esserci Delle cose nuove In vista Dei progetti Degli accordi Mi viene da dire Anche delle divisioni In vista È come se Allora Qualcuno potrebbe anche Diciamo così Essere in una fase Dove ha la necessità Di usare Parte di quello Che ha già Risparmiato O comunque Diciamo Tirato su Per finanziare Per muovere Questo nuovo investimento Questo nuovo progetto Vi dico Ho forte la sensazione Che per qualcuno Può essere un progetto Di viaggio O un progetto Mi fanno vedere Dei grafici Ok Quindi Magari qualcuno Risuona Qualcuno No Se invece I vostri investimenti Sono per esempio In titoli In Bot BTP Bitcoin In quello Che è Ragazzi Devo dire Di portare Un po' Di prudenza Cioè Siate prudenti In questo periodo Perché potrebbe Non esserci Tutto Quella Crescita Quello Slancio Che magari Vi state aspettando Quindi anche Nel caso In cui Contiate Con questi investimenti Per dar vita A questo nuovo progetto Ecco Fate bene I conti Fate bene I conti Perché secondo me O Non arriva Quello che voi Vi aspettate Oppure C'è Come Diciamo Una dispersione Di denaro Potrebbe anche Essere che qualcuno Sta investendo Troppo In Oggetti Materiali Magari per portare avanti La propria attività Che non sono del tutto Necessari Ecco Se così fosse Cercate di Fare una sorta Di lista Delle priorità Su che cosa Effettivamente vi serve Su che cose Invece potrete Aspettare A comprare Perché Come La sensazione Che Si ha La gestione Di qualcosa Che vi porti Un po' fuori Fuori aspettativa Diciamo così Se invece Il vostro settore Fosse Quello Non lo so Dei servizi Del commercio Del business In generale Vi dico Che Lì L'energia Sarà veramente Attiva Movimentata In continuo E costante Cambio In evoluzione Lì sento Veramente una spinta In avanti Quindi se Quello che è Diciamo L'investimento Tra virgolette Passivo Dei titoli E' fermo Tutto quello Che Richiede Prevede Diciamo Uno sforzo Per generare Denaro Sarà ben Ripagato Ragazzi Vi dico Andiamo A A prendere Una sola Carta Per Per Arcano Così Vediamo se Devo aggiungere Qualche cosa Allora andiamo A vedere Il matto Ok si è girata Questa Sapete perché Continuano a cadermi Le carte Perché Mi dicono Che si sente Tanto il rumore Sul microfono Delle carte Mentre io Le sto mischiando E che dà fastidio Quindi cerco Di lasciare Più lento Il mazzo Però mi cascano E quindi Per non dar fastidio Fondamentalmente A coloro che ascoltano Con lo scroscio Del mazzo Va bene Allora A parte questo dettaglio Abbiamo Un tre di bastoni Per il matto Un cinque di coppe Per il due di coppe Un cinque di pentacoli Per l'otto di bastoni Un fante di spade Per il fante di bastoni Vediamo Per la regina Di pentacoli Abbiamo un nove Di spade Un po' Come l'assenza Quattro di bastoni È un po' Infatti Perché abbiamo Quattro di pentacoli Due di spade Per il quattro Di pentacoli Attenzione alle uscite impreviste Ragazzi Potrebbero esserci Delle uscite impreviste Attenzione anche Nel luogo di lavoro O in casa Alle perdite di acqua Perché quando c'è Un lavandino Che perde Anche solo una goccettina O lo scarico O lo scarico Del bagno In oriente Che siccome l'acqua È un qualche cosa Che circola Come il denaro In oriente È considerato Come una potenziale Perdita di denaro Per perdere acqua E come perdere denaro Quindi Per iniziare un po' Per iniziare Ad un certo punto Ad un certo punto del mese Per colmare Per colmare un certo tipo Di insicurezza È come se Il discorso potesse essere Devo comprare Un computer più potente Perché Riuscirò a lavorare meglio E quindi A Non lo so Fare più clienti Ad avere più clienti O cose di questo genere Però in realtà È più un È più una convinzione È più la paura Di non lavorare O di non generare denaro Che non in realtà Quello che è Perché qui Movimento Ce n'è A go go Vi dico Per qualcuno Ci potrebbe Anche essere La vendita Di una casa Ragazzi Nel mese di marzo Un accordo Magari Sapete Si fa Il compromesso Va bene Andiamo a vedere Una fatina Fatemi sapere Poi nei commenti Perché Mi piace Sapere Se vi risuona Se vi ha dato Spunti Di riflessione Se effettivamente Poi a fine mese Avete trovato Riscontro Wow Non attaccamento Eccoci qua Questa è proprio La carta Dell'attaccamento Sì È un po' Come se Si dovesse uscire Da Un certo Attaccamento Qua fa vedere Un castello Come se fosse Una casa Però potrebbe anche essere Un attaccamento Lo sento molto forte Come una casa Perché qui abbiamo Il 5 di pentacoli Che abbiamo Il 4 di pentacoli Il 4 di bastoni Sì Potrebbe anche essere Una persona Però Vi dico Qualcuno potrebbe essere Un attaccamento A una madre L'attaccamento Sì A una persona O A qualche lato Femminile Concreto In concreto La compulsione Dei shopping È perché In questo momento State spendendo Tanto in cose Materiali Cioè Nel mese di marzo Avete questo istinto A spendere Più Più del dovuto Mi verrebbe anche Quasi da dire Per questioni Di apparenza Che in realtà Non vi daranno La sicurezza Che voi state cercando È da ritrovare dentro Cercate di capire Da dove arrivano Le paure E da dove arriva Questa sensazione Di attaccamento Per poter far fronte E uscire Da questa sorta Di dubbio O di Diciamo Pensiero Annebbiato Amici della seconda scelta Questo è quello Che avevo per voi Spero che comunque La lettura vi sia stata utile Fatemelo sapere Con un like Un commento Se avete piacere Potete iscrivervi O condividere E se volete iniziare Un percorso di crescita Con me Potete iscrivermi Una mail Oppure abbonarvi Al canale Io vi ringrazio Di essere stati qui Con me Vi mando un abbraccio E ci vediamo Nei prossimi video Ciao ciao Benvenuti anche Agli amici Della terza scelta Andiamo a vedere Anche per voi Che movimenti Ci sono A livello finanziario Nel mese di marzo Queste letture Ragazzi Le potete comunque Integrare Con la lettura Sul lavoro Che uscirà E con quelle generali Ok Trovate comunque Il link sotto Nella descrizione Del video C'è proprio Una guida Che ho pubblicato Che spiega Come Come Incastrare In diverse letture Ok Trovate anche La mia mail Il link Per le previsioni Del 2024 Per le tarot pratiche Del 2024 Bene Andiamo a vedere Che energie c'è Uh Giustizia Ragazzi Regina di coppe Re di bastoni Cinque di bastoni La stella Due di bastoni Oh Qui ce ne sono tante Una sola Per piacere Grazie E otto di spade Dunque ragazzi Partiamo dagli investimenti Allora Nel caso Siano investimenti Ma Direi sia finanziari Che Immobiliari Investimenti magari In nuove attività Piuttosto che In immobili Piuttosto che In strutture Piuttosto che In cose Però Cioè diciamo In cose Non investimenti Di tipo finanziario Cioè di tipo Non so come Farla Come No borsa Ma più investimenti Di tipo materiale Ok Perché la borsa L'ho tratto dopo Borsa bitcoin Btp Quella roba lì Allora Comunque Dicevo che Per gli investimenti Può essere Un ottimo periodo Sento che Potrebbero Arrivare Ottime Ottime intuizioni Ragazzi Ho come la sensazione Ho come la sensazione Che potreste Per essere una palestra Una palestra Un centro artistico Come se fosse una nuova idea Inerente a un nuovo modo di investire O una nuova struttura O una nuova struttura Su cui investire Per quello che riguarda Invece Gli investimenti Diciamo Di borsa Se vogliamo Dire così Ragazzi Siate Molto 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 Prudenti Perché Ho come la sensazione Che abbiate scelto Una strada Un po' Tortuosa Magari sono titoli Che insomma Non si espandono Così tanto Piuttosto che Il bitcoin Che voglio dire È un attimino In fase di Neanche arresto Perché non sento Che sia tutto fermo Più che tutto È Un Continuo sali e scendi È un qualche cosa Che non si capisce Se cresce O se scende Quindi magari Non investite Altro denaro In questo senso Se ne avete già Per quello che riguarda Invece Diciamo Il lavoro Diciamo I scambi commerciali Che è meglio È meglio detto Più che il lavoro Devo dire Che sarete Parecchio 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 abili Mi viene da dire Saprete gestire Davvero Con destrezza Poi grazie a questa Fase intuitiva Molto sviluppata Devo dire Che È come se Si aprissero Nuove strade È come se Foste proiettati Verso il futuro È come se Si iniziaste A Potrebbe anche essere Allora Da un lato Potrebbe essere Una vendita Dall'altro Potrebbe essere Una rottura Di un contratto Andiamo a vedere Carta per carta Vediamo se riesco a dirvi Qualche cosa in più Allora Qui abbiamo Ecco Mi sembra giusto Guardate Arcano maggiore Arcano minore Giustizia E sei di pentacoli Al contrario Poi per la regina Di coppa Abbiamo un otto Di coppe E la regina Di spade Una carta Per il re di bastoni Re di denari Molto bene Una carta Per il cinque Di bastoni Abbiamo l'otto Di pentacoli Per la stella Abbiamo nove Di spade Scusate Il nove Di bastoni Per il due Di bastoni C'è Sette di spade E per l'otto Di spade Tre di spade Ragazzi Come la sensazione Che non sia Un buon mese Per iniziare cose Anzi Ci sono Delle nuove idee Ma Ho come la sensazione Che qua Con questo Sette di spade Lotto di spade Non sia del tutto Chiaro qualche cosa Soprattutto Se c'è Qualche mediatore Tra voi I vostri soldi Controllate Questa persona Controllate bene Quello che fa Fatemi un'altra carta Per questo Tre di spade Due di spade Due di spade Allora qualcuno potrebbe dover terminare un qualche tipo di collaborazione di contratto Perché non frutta tanto quanto voi avevate sperato E magari ci potrebbe anche essere un po' di rammarico Un po' di tristezza Perché magari Era una cosa Sulla quale avevate puntato Tanta Avevate messo tanta speranza Tanta energia Però devo dire che Quello che andrete a chiudere Secondo me È una questione che vi ha drenato Tanta 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 energia Probabilmente avete anche Creato una certa forma pensiero Non vedendo arrivare i risultati che volevate Che vi abbiano Vi ha un po' Diciamo Demoralizzato Vi ha portato a questo 8 di spade Però guardate Io in realtà ragazzi Sento che L'unico Punto Un po' così Sono Per chi ha Una rendita Già Attiva Cioè Per chi ha già qualche Investimento immobiliare Piuttosto che Non lo so Ha qualche casa che metti in affitto Come le rendite passive Diciamo così Ecco Quelle sono da rivedere Perché potrebbero esserci Dei tagli Per quello che riguarda Invece La borsa Ne Alti e bassi Per quello che riguarda Invece appunto Gli scambi commerciali Grandi cose Ragazzi Vi dico Potrebbero esserci Dei contratti Stipulati In modo proficuo Vi dico Che potrete Arrivare All'obiettivo Che vi siete prefissati Si tratta di Togliervi un po' Da quest'illusione C'è qualche verità Che voi vedete In un certo modo E che va ribaltata Qui L'unica cosa Che è un po' Così Che vi posso dire Ecco Mentre appunto Buon periodo Per Mi verrebbe da dire Investire lontano Da dove siete Per investire All'estero Per investire Ragazzi Anche in Studi Ricerca Nuovi metodi Di lavorare Anche mi viene da dire Andiamo a vedere Una fatina Fatemi sapere Poi alla fine del mese Se vi risuona Due fatine Condivisione Luce interiore Bellissima La sento un po' Vicina a Come è disegnata Qui la regina Di coppe Il fatto che ci siano Queste mani Dalla quale esce Questo Non so se si vede Questo raggio Di luce Qui fa riferimento Alle donne guaritrici Ok Perché Qui abbiamo i chakra Una donna Reikizzata Insomma E anche qui Luce interiore Fa vedere Tutta questa fatina Che ha tutti i chakra Illuminati Quindi è un po' Come esprimete La vostra luce Interiore Che cosa sapete fare Dove volete andare E qui abbiamo Condivisione Ed è un po' La sensazione Che mi dà Questo re di pentacoli Come se Nel periodo di marzo Foste Abbastanza Forti Nell'ambito Dei commerci Del business Diciamo Da poter condividere O il vostro successo Oppure il vostro business Amici della terza scelta Questo è quello che avevo per voi Spero che la lettura Vi sia stata utile Fatemelo comunque sapere Con un like Con un commento Se avete piacere Di sostenere il canale Potete iscrivervi O condividere Se volete iniziare Un percorso di crescita Con me Potete scrivermi una mail Oppure Abbonarvi al canale Ragazzi io vi ringrazio Di essere stati qui con me Vi mando un abbraccio E ci vediamo Nei prossimi video Ciao ciao